I cittadini di Agropoli chiedono a voce alta al sindaco Adamo Coppola e ai sindaci del territorio del Cilento di unirsi e protestare contro la decisione dell'ASL di Salerno in merito al provvedimento a firma del direttore generale dell'ASL, Mario Iervolino, di trasferire presso la struttura sanitaria di Rione Pastena a Salerno il mammografo presente nel presidio ospedaliero di Agropoli. Lo scorso 3 novembre l'ASL di Salerno ha disposto attraverso un documento il trasferimento ad ORAS dal presidio ospedaliero di Agropoli alla sede del distretto sanitario 66 di Pastena l'apparecchiatura mammografica digitale con tomosintesi estremamente performante e regolarmente funzionante. Il trasferimento si rende necessario, si legge nel documento, visto le tante adesioni alla campagna di prevenzione del tumore alla mammella, ad erogare un maggior numero di prestazioni mammografiche. Dunque il presidio ospedaliero potrebbe perdere uno strumento importante per la prevenzione sul territorio. Il macchinario è attualmente ancora nella struttura ospedaliera di Agropoli e non si escludono manifestazioni di protesta per evitare un'azione del genere. Il mammografo fu inaugurato l'8 marzo del 2018 e nell'arco di un anno e mezzo ha effettuato 1.600 visite. Gli esami sono stati interrotti a causa del Covid-19, ma visto lo sblocco delle prestazioni sanitarie, i cittadini si chiedono perché Agropoli e l'intero comprensorio deve essere mortificato un'ennesima volta e privato di un macchinario utile alla prevenzione del tumore al seno. Ci aspettiamo dal sindaco di Agropoli come membro del Comitato dei Cinque Sindaci che siedono al tavolo con il direttore generale dell'Asla di Salerno, Mario Iervolino, di intervenire ad Oras sulla questione. La città di Agropoli paga già alto il prezzo di non avere un pronto soccorso, non lasciamo che ci venga tolto ingiustamente anche un macchinario utile a salvare vite umane, che già da domani potrebbe essere funzionale ed erogare visite senologiche presso la struttura ospedaliera agropolese.